grazie e benvenuti in questo nuovissimo video tutorial oggi in questo video vi farò vedere come fare uno slime mi raccomando ragazzi un bel like iscrivete il mio canale attivate la campanella adesso incominciamo col tutorial ingredienti che andiamo ad usare sono schiuma da barba la vinavil il mio crema crema per il corpo e la colla un'altra colla perché oggi in questo video andrò a usare due e il colorante viola io lo uso viola e allora questa qui è l'acqua calda acqua calda e questo qui è l'acido borico e ora ve lo farò vedere eccola qua è la bustina è una bustina da 30 grammi e che vabbè e lo andiamo a mettere a parte poi abbiamo un un cucchiaio diciamo e una bacinella da mettere lo slime come il primo ingrediente ovvero la colla ok ragazzi ora così può bastare la dobbiamo mettere così ora andiamo a mettere l'altro tipo di colla che è questa qui sta anche cadendo e lo andiamo a mettere dentro e ci riesce però raga ecco sto facendo ok spettacchini dobbiamo mettere ancora ok ragazzi così ok può bastare così ora andiamo a mettere la schiuma da barba e ora andiamo a mettere la schiuma da barba e ora andiamo a mettere la schiuma da barba e ora andiamo a mescolare del tutto adesso andiamo a versare l'acido borico ovvero acqua calda acqua calda andiamo a metterle due gocce ok adesso mescoliamo del tutto anche con l'acidio parico dentro aspettate eh perché secondo me già si sta tensando devo mettere il liocrema la crema per il corpo e subito dopo il colorante allora di liocrema ne andremo a mettere pochissima ok un goccio ora andiamo a mescolare aspettate raga secondo voi è fatto? scrivetelo nei commenti poi andiamo a mettere subito il colorante due gocce ragazzi girando girando guardate cosa è uscito un fluffy slime ok forse ora è meglio di ora vediamo se guardate guardate che bello guardate il colore si è attaccato tutto il slime è uscito ragazzi però ho visto massaggiandolo si attacca un po' quindi vorrei metterci un altro po' di acido porico pochissimo pochissimo aspetta ragazzi andiamo a togliere un altro po' proprio un po' ok abbiamo fatto ora andiamo soltanto a mescolare così vediamo se diventa bello che non si appiccica ovviamente andiamoci un attimo a farlo con le mani rana lo vedo un po' bagnaticcio però guardate è bormidissimo raga anche l'odore allora ragazzi questo video finisce qui ciao a tutti e alla prossima ragazzi e alla prossima ragazzi ciao